Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di 200. Avresti mai detto che saremmo arrivati alla puntata 200 quando quel giorno di tanti anni fa ti proposi di fare un podcast? Quando nel lontano 19 aprile 2019 siamo partiti con la prima puntata. Ma allora, già festeggiare quota 100 è stato bello. Arrivare a quota 200 è stato invece molto veloce, sono sincero. È volato? Sì. È volato perché comunque noi ci teniamo molto a far sì che ogni venerdì esca una puntata. Quindi qualunque cosa succeda noi cerchiamo sempre di organizzarci affinché il venerdì ci sia una puntata. Esatto. Perché sappiamo che i nostri ascoltatori ci contano ormai. Quindi sanno che ogni venerdì c'è questo rito che è il rito dell'ospitalità 4.0. Esatto, il rito del podcast. E è vero, le puntate sono uscite a ferragosto, sono uscite il 26 di dicembre. Quindi comunque abbiamo sempre mantenuto un ordine per dare una cadenza al podcast, anche rivolto a tutti quegli ascoltatori che ci seguono da tanto tempo. È interessante secondo me vedere, Marco, come è evoluto il podcast, no? Perché dalla puntata 1 alla puntata 100 c'è stato un filone. Poi dalla puntata 100 alla 200 abbiamo tenuto un altro filone? Probabilmente no. Ma è cambiato il modo con cui ci siamo approcciati. È stata un'evoluzione abbastanza graduale secondo me. Perché i nostri ascoltatori più assidui avranno notato, come dici tu, che non è che c'è questo spartiacque tra prima e del 100 e dopo il 100, ma una progressione perché ci siamo resi conto che gli argomenti che trattavamo all'inizio erano più didascalici, più scolastici in qualche modo. Anche molto didattici, no? Molto didattici, esattamente. Quindi ti spiego che cos'è un booking engine, ti spiego che cos'è un channel manager, quindi si partiva dalle nozioni e poi ci si parlava sopra. È vero. E adesso ovviamente noi abbiamo degli ascoltatori che sono abituati a queste nozioni, specialmente chi sta intraprendendo il concetto, sta abbracciando il concetto dell'automazione dei processi lavorativi in albergo, ci sta portando, perché i nostri ascoltatori sono loro che ci trascinano verso le direzioni, verso i trend che nascono, verso un colloquio un pochettino più anche di brainstorming. Quindi rimane sempre il filone dell'ospitalità 4.0 come quarta l'evoluzione della nostra industria dell'hospitality. Giusto. Però siamo passati da un qualcosa che era più, ti spiego i concetti di base, che chi ha bisogno di ascoltarli raccomandiamo di andare tra le prime 10, 20, 30 puntate. Adesso noi siamo sempre molto più proiettati verso un ragionamento più, diciamo, sottile, o quanto meno ci proviamo a fare quel qualcosa in più che non è scontato, cercare di fare dei parallelismi. E secondo me questo paga. E anche i feedback pensi siano positivi. Tu che ne pensi, Edoardo? Assolutamente, riguardavo prima un po' di dati e vedevo che delle prime 100 puntate, una delle puntate più ascoltate era come creare tariffe e prezzi per il tuo hotel. Quindi anche qui un carattere molto didattico. E poi invece magari nelle ultime, quindi dalla 101 alla 200, ho visto che sono piaciuti particolarmente degli argomenti tipo perché proporre delle date alternative. Quindi argomenti anche un po' più ricercati su cui si fa un ragionamento, ma che sono ad un livello superiore per un ascoltatore che appunto conosce bene la base e vuole una consulenza su come migliorare le proprie strategie. E per forza, anche perché la maggior parte dei nostri ascoltatori le basi già ce le hanno chiare. E quindi quello che a loro serve è quel brain picking, no? Quando vai a punzecchiargli il cervello per dire Ah, questa cosa non l'avevo pensata, questa non l'avevo vista sotto questa luce, effettivamente può essere adatta anche al mio hotel. Giusto. Ma io credo anche che questo podcast in maniera molto egoistica serva quasi più a noi che ai nostri ascoltatori. O perlomeno, serve anche a noi come serve ai nostri ascoltatori. Perché? E questo è un insegnamento che dobbiamo portarci a casa e che anche voi dovete portarvi a casa. Noi, ogni venerdì, come dicevo prima, registriamo una puntata del podcast. Questo è qualcosa, un impegno che io e Edoardo abbiamo. E a volte non è sempre facile trovare gli argomenti. Ci mettiamo a tavolino, cerchiamo di capire come sta evolvendo il mercato, come stanno evolvendo le nostre idee. E ci confrontiamo. Buttiamo sul tavolo delle idee che sono pietose, le altre che sono buone, altre che magari potrebbero essere considerate ottene. Certo. Un'altra cosa che mi piace è che comunque tutte e 200 le puntate hanno come filo rosso la digitalizzazione e la trasformazione digitale. E in questa ospitalità 4.0 rivesto un ruolo particolarmente importante perché ci aiuta a sfruttare la tecnologia in maniera mirata. Quindi cerchiamo di capire come la tecnologia possa essere inserita all'interno di processi operativi. Tant'è che una puntata del podcast, mi sembra intorno alla 180, parla di processi operativi alberghieri. Ed è un po' questa l'evoluzione che ha avuto il podcast. Da questo carattere così didattico ad un carattere quasi di consulenza. Consulenza dove, Marco, rientrano ovviamente anche gli ospiti che fanno parte del podcast Ospitalità 4.0. Ospitalità 4.0 non è solo Edoardo e Marco che intervengono, ma sono anche altre figure esterne. Siano queste di formazione del personale, di marketing, di revenue, albergatori che appunto danno il loro punto di vista in un'epoca che veramente ormai è 4.0, dove il digitale domina. È vero, però è anche bello, tutto vero, i nostri ospiti sicuramente impreziosiscono questa roadmap di argomenti che noi andiamo a trattare quotidianamente. O perlomeno settimanalmente. E quello è prezioso. Lato nostro parliamo spesso, quasi sempre, di digitale, però sempre strizzando l'occhio all'analogico. Quindi quando diciamo l'importanza di sapersi relazionare con il cliente, l'importanza di comunicare. La comunicazione è puramente analogica, però ha bisogno di un supporto digitale. Quindi anche a livello pratico, tutti i consigli che diamo devono trovare un riscontro. Perché se parliamo dei massimi sistemi, senza poi scendere nel pragmatico, senza scendere nel pratico, finisce la puntata e io non so che cosa hanno detto. Sì, magari ho passato dieci minuti interessanti, però non mi rimane nulla. Quindi quello che noi proviamo a fare, e ovviamente feedback è ben accetto, o potete scriverci, come sapete, a podcast.chiocciolaslope.it E quello che cerchiamo di fare è di cercare di lasciarvi ogni volta con qualcosa che a voi rimanga. In questa puntata 200 ce la siamo presa un pochino per noi, per fare quasi psicoanalisi di questo podcast, capire dove eravamo, dove siamo e dove vogliamo andare. Dove vogliamo andare? Tu, Edoardo, ce l'hai l'idea chiare? Ma io ce l'ho abbastanza l'idea chiare. L'idea è sempre quella di dare un riscontro pratico, come dici tu, alle nostre puntate. Quindi per me la tecnologia è al centro delle nostre puntate, ma una tecnologia buona, una tecnologia che possiamo applicare realmente, e non l'applicano solo Edoardo e Marco che fanno il podcast, ma l'applica anche il receptionist, l'albergatore che sta dall'altra parte della cornetta. È vero. Della cuffia. Della cuffia, ovviamente. E quindi noi sappiamo bene che tu che ascolti questa puntata potresti essere in macchina, potresti essere in palestra, e quindi anche il livello di dettaglio che dobbiamo avere nelle nostre puntate deve essere non troppo approfondito, perché altrimenti poi questi concetti rimarrebbero male in testa, intendo dire. Assolutamente. E poi ovviamente dietro le quinte c'è sempre l'eco di Slope, il nostro software gestionale per hotel, no? Assolutamente. La soluzione software. Bravissimo. E qui mi riaggancio, vedo che una puntata molto ascoltata è stata la 149, ad esempio, il cui titolo è La potenza inespressa della Roaming List. Quindi la Roaming List è un argomento che i receptionist conoscono molto bene, specialmente quando si parla di gruppi e comitive, no? Quindi tecnologia Roaming List applicata a Slope. Sì, ovviamente il contesto di Slope rimane sempre vero, no? Perché è sempre vivo dietro le quinte, perché noi abbiamo questo prodotto software che ovviamente risponde a questi requisiti di automazione di cui parliamo nel podcast. Tuttavia, buona parte delle operazioni che noi raccontiamo con Slope possono essere fatte anche con altre soluzioni. La filosofia che c'è dietro è una filosofia profonda che poi viene raccontata anche nel libro Ospitalità 4.0, Guida pratica per l'albergatore moderno. Oppure nei vari contenuti, l'ebook, la rivoluzione dei pagamenti in hotel. Quindi abbiamo tante risorse che sono a disposizione dei nostri amici albergatori con l'intenzione di portarli al passo con i tempi e camminare insieme a loro in questo contesto di business, che appunto è quello dell'ospitalità, che è in continua evoluzione. E quello che noi diciamo sempre è, se non riesci a rimanere al passo con i tempi che evolvono, rischi di rimanere indietro. E chi rimane indietro, attraverso un processo darwiniano, è soggetto a soccombere. Quindi restate con noi. Spero che questo podcast sia di vostro interesse, anche nelle puntate che verranno. Ne abbiamo tante altre, come dicevano i Simpson in uno speciale, quando erano arrivati più o meno la quattordicesima stagione, dicevano non vi preoccupate, ne abbiamo ancora per anni di puntate. Uguale il podcast. Quindi rimanete con noi, perché ne abbiamo veramente tante. E ne avremo e ci sforzeremo di trovare degli argomenti che siano, per voi e per noi, interessanti, per poter rimanere sempre al passo di questa ospitalità che sta evolvendo continuamente e sempre più velocemente. Assolutamente. Quindi continuate ad ascoltarci. Come sempre potete scriverci a podcast.chiocceloslope.it Ciao a tutti. Buon ascolto. Ciao a tutti.